Il ciclone Pordenone spazza via il fuscello Teramo. Allo stadio Bottecchia, gremito da oltre 2000 spettatori, la capolista si impone 4-0, poker realizzato in 36 minuti, concedendosi anche il lusso di sbagliare un calcio di rigore. La squadra di Maurizzi viceversa interrompe in maniera brusca la miniserie di tre risultati utili consecutivi e il buon raccolto in trasferta, 10 punti nelle ultime quattro, incappando nella peggiore partita della stagione, travolto dalla forza della capolista ma anche a tratti quasi rassegnato al suo destino di giornata. Il rigore non trasformato da infantino è lo specchio di un pomeriggio in cui la squadra è stata solo a guardare. La partita. Nessuna novità in casa biancorossa. Con le assenze di spieghe persi a Maurizzi mette dentro Spinozzi e Armeno. In avanti Sparacello la spunta su De Grazia. Dall'altra parte Tesser ha due squalificati, Berrettoni e Bombagi, ma la rosa è di qualità e quantità. 4-3-1-2 il sistema di gioco con Ciurria alle spalle del tandem Candelloni-Magnaghi. L'arbitro è Pasciuta di Ravenna. La gara prende subito la piega voluta dalla Pordenone. Sesto minuto a fondo sulla destra di Ciurria. Pallone in mezzo per la vele vincente di Zammarini che fa esplodere di gioia lo stadio. C'è tempo per recuperare ma anche per cadere di nuovo. E così all'undicesimo ecco il bis. Azione fotocopia con Ciurria che in una difesa ferma stavolta pesca Magnaghi che inzacca alle spalle di Pacini per un 1-2 mortifero che spegne le veleità del Teramo nonostante ci sia ancora tanto da giocare. Pordenone travolgente e vicino al Tris. Punizione dal limite di Burrai e grande intervento di Pacini che toglie la palla dell'incrocio. Passano tre minuti e c'è il calcio di rigore per il Pordenone. Pacini atterra Candellone. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Burrai però si fa parare il tiro da Pacini che respinge con un piede. L'errore non spegne le azioni del Pordenone che fa Tris su una punizione originata da un involontario tocco di mano di Proietti. Dai 25 metri Burrai fa centro con la complicità di Pacini buttatosi in ritardo. Gara virtualmente chiusa ma non per i padroni di casa che affondano ancora. Il poker arriva su un'azione viziata da uno fuorigioco non segnalato a Magnaghi che però desiste da rincorrere la sfera recuperata da Zammarini che mette dentro per il liberissimo Candellone che non sbaglia. Gara chiusa. C'è giusto il tempo di vedere al 39esimo il penalty fallito da Infantino che comunque non avrebbe riaperto i giochi. Nella ripresa nessuna voglia di giocare. Ritmi molto lenti, tanti cambi e soprattutto squadre che vogliono evitare ammunizioni o peggio infortuni. Sugli spalti è festa anche se la promozione anticipata è rimandata perché la Triestina ha vinto. Il Teramo ha cercato con maggiore insistenza la rete della bandiera senza riuscirci ma anche senza dannarsi. Tutte energie risparmiate per sabato prossimo quando al Bonolis arriverà la Vispesaro. Scontro salvezza da vincere ad ogni costo per scacciare le streghe.